Femmi un attimo che ti... ti devo parlare. E' piano, pazzo! Il bambino! Questo è un bambino. Sono andato ad abortire. Ma come hai potuto? Per quel programma del cazzo. Mi fai bene. Non hai neanche quello che vuoi. E tu che ne sai di quello che vuoi? Tu in questo testo di impietra sei rimasto solo una puttana! Scusa, ma ti pare che io vado dal salugnere e gli dico Walter dammi quel cazzo di prosciutto e due chili di pinoli stronzo! Oppure in banca, signor Poggi mi dio il mio fottuto a sogno e i miei soldi. Mi bastarda! Porca puttana! Guarda che cazzo mi hai fatto fare! Voleva seppellire lì Alessandra? No. Quindi non aveva spaccato il pavimento del garage per seppellire lì il corpo? No. E dove l'ha portata? A Nudabanna. L'ha portata nel fiume o l'ha portata nei campi? Ma che mente voli di me, ah? Che mente voli? Io questo voglio fare nella vita. Voglio regalare emozioni. Grazie a tutti!